Era con il suo compagno in auto quando è sopraggiunto un malore, improvviso, probabilmente un infarto. Proprio il compagno ha fatto scattare la macchina dei soccorsi ed immediato è infatti l'arrivo dei sanitari della Croce Gialla con un'ambulanza rianimativa di Agropoli e un'ambulanza medicalizzata, sempre della Croce Gialla, di Piazza Santini. Purtroppo, giunti sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. Immediato anche l'intervento dei carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica dei fatti, la donna era molto conosciuta, Trentinara separata, lascia due figli. Il corpo attualmente si trova nella camera mortuaria del cimitero di Trentinara in attesa dell'autopsia.